Gentili telespettatori, buona giornata. C'è uno spiraglio, dicono diverse fonti, per mantenere in vita il governo Draghi. I segnali ci sono. A 48 ore, dal giorno del giudizio, come dice Giorgia Meloni, arriverà il giudizio per voi, parlando di Letta e del PD, la conferenza dei capigruppo porta delle novità, dei segnali. E poi c'è l'enigma, che non è quella macchina della Seconda Guerra Mondiale, ma c'è l'enigma, Berlusconi-Salvini. L'ipotesi che conta esca per la fiducia e poi esca anche dal governo e sullo sfondo poi le dimissioni. Vediamo un po'. C'è questo spiraglio. 48 ore al giorno del giudizio del Parlamento. L'Assemblea dei Cinque Stelle va avanti ormai ininterrottamente da giorni. Alcuni segnali equivocabili che dicono che il governo potrebbe ancora andare avanti. Il primo segnale è l'esito della conferenza dei capigruppo di Montecitorio di ieri mattina. Roberto Fico. Discussione parlamentare di mercoledì 20 luglio. Sarà quella delle comunicazioni fiduciarie. Quindi non farà delle comunicazioni generiche, ma Draghi farà delle comunicazioni fiduciarie. Cioè delle comunicazioni che poi porteranno a un voto. Cioè dirà delle cose e poi i parlamentari dovranno votare. E non è la stessa cosa. E così. Il Draghi parlerà. Ci sarà un dibattito. I parlamentari voteranno la fiducia. Chiamati nominalmente in ordine alfabetico. Durante la riunione alla Camera accade un fatto non previsto. Quanto meno non in questi tempi. Matura formalmente la prima presa di posizione formale Cinque Stelle PD da giovedì scorso. Le due forze politiche chiedono assieme di iniziare i lavori di mercoledì alla Camera. Dove l'aritmetica è più favorevole e non dal Senato. Dove si annidano le maggiori resistenze dei Cinque Stelle rispetto al proseguimento dell'avventura in maggioranza. Quindi da questo punto si capisce che Conte con Letta stanno dicendo Beh dai facciamo alla Camera perché lì magari i numeri sono più grandi della fiducia e magari Draghi ci ripensa. Quindi da questo si vede assolutamente un Giuseppi pentito che l'ha fatta grossa e non sa più come tornare indietro. E poi l'iniziativa è del governista Davide Crippa che infatti viene messo sotto accusa dai ribelli all'inizio dell'assemblea pentastellata. C'è il fatto della possibile scissione, ulteriore scissione. Già gli scissionisti di Di Maio, quelli che sono insieme per lo stipendio, quelli votano per Draghi che sono già la metà dei grillini, ex grillini. Adesso con un'altra scissione il Movimento Cinque Stelle sparirebbe e tutti questi altri scissionisti farebbero un nuovo gruppo parlamentare, un nuovo partito anche lì per cercare di sfuggire al vincolo del secondo mandato Cinque Stelle e votare per Draghi che potrebbe portare i loro stipendi fino a marzo-maggio del 2023. E così, insomma, ci sono dei segnali per far rimanere Draghi in sella al governo. Draghi rimarrà a Palazzo Chigi in queste ore la scommessa di Matteo Renzi. Anche lui deve sopravvivere per lo stipendio suo dei parlamentari perché con il suo partito, se si va a votare oggi, sparirebbe dalla politica. Lui, il suo partito e i suoi politici. A meno che non lo facciano rientrare nel PD. Ma se non rientra nel PD ha finito il suo lavoro come politico. E' certo che lui spera che Draghi rimanga. Secondo questo scenario, quello di Renzi sarebbe sostenuto dalla stessa maggioranza di prima, meno che dall'ala dura dei Cinque Stelle, finora benedetta dalle mosse di Conte. Poi abbiamo il problema, non problema, di Berlusconi-Salvini. Salvini dice prima elezioni, poi dice prima Draghi, poi elezioni, poi dice beh con Draghi solo se non ci sono i Cinque Stelle e con Berlusconi decidono che con i Cinque Stelle basta, pertanto meglio Draghi o Draghi bis ma senza i Cinque Stelle. Insomma, Salvini ha detto tutto il contrario di tutto, però questa non è una novità. Ormai abbiamo imparato a conoscere il capitano leghista e anche i suoi elettori lo hanno ormai conosciuto e molti se ne sono andati. E poi abbiamo il nodo di missioni. Se Salvini e Berlusconi chiarissero che il governo è a fine corsa, le elezioni anticipate irrinunciabili, facendo un ulteriore passo in avanti rispetto alla linea fissata nel vertice di domenica, a Villa Certosa verosimilmente si ridurrebbero alla presa d'atto che le fondamenta di cui è stato costruito il governo di un'unità nazionale non ci sono più. Quindi c'è anche il nodo Salvini-Berlusconi che se loro in maniera congiunta dicessero per noi non ci siamo più nel governo, Conte non c'è più, alla fine le dimissioni di Draghi sarebbero assolutamente inevitabili. A quel punto la palla passerebbe al capo dello Stato che con la Costituzione alla mano ha diverse opzioni. Il governo elettorale che accompagna il Paese al voto anticipato fino a un governo del Presidente che può fare la legge finanziaria evitando lo spettro di un'eventuale paralisi. C'è un punto da tenere in considerazione imprescindibile. L'ha ricordato alcuni Gaetano Quagliarello. Prima di arrivare alle elezioni anticipate il Quirinale ha sempre bisogno di verificare se non ci sono margini per un nuovo governo. Ecco, solo che se è sicuro, oltre ogni ragionevole dubbio con i passaggi formali, tipo le consultazioni, si procede allo scioglimento delle camere. Ma una maggioranza con Salvini, Berlusconi, PD e altri partiti c'è. Si è visto nel decreto legge aiuti. Lì la maggioranza c'era e non c'erano i grillini, o perlomeno una parte, non c'era Fratelli d'Italia. Pertanto Mattarella, se ravvede che c'è comunque una maggioranza, può mandare lì un altro premier o dire ai partiti di scegliere un premier per fare un nuovo governo che arrivi a fine 2023. Ecco, queste sono le possibilità che ci sono. E poi c'è l'enigma Draghi. C'è l'uomo Mario Draghi, il capo del governo, che perentoriamente aveva annunciato le dimissioni in Consiglio dei Ministri giovedì scorso, dimissioni sicure, irrevocabili, che poi sono diventate irrevocabili dopo l'intervento di Mattarella. E poi vediamo quello che succederà, perché è rimasto favorevolmente colpito da tutte le manifestazioni di affetto verso di lui, rimani, rimani, rimani. Ha cominciato a incrinarsi quelle sue dimissioni, il irrevocabili. E poi c'è lo scenario Conte, il campo largo col PD. Vedremo quello che succederà. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.